Musica Hola ragazzuoli, entrata fa parte della famiglia Vitamod, gruppi telegram fissati nel primo commento Hola ragazzuoli, benvenuti in questo nuovo video su Vitamod Ragazzuoli, ovviamente sono usciti di nuovo gli accessori del The Independence Day, cioè la festa del 4 luglio Ovviamente ragazzuoli ci andiamo a creare sopra un outfit, gli accessori sono tantissimi Mano a mano che andiamo a fare l'outfit vi faccio vedere ovviamente che cosa c'è di nuovo Innanzitutto se andate in cassa potete andare a prendere i completi ovviamente del The Independence Day Potete andare a vedere i completi già fatti, quelli che vi dà ovviamente la Rockstar disponibili fino a giovedì mi raccomando Ok? Li potete salvare comunque e tenerli poi tutto l'anno Dopodiché ragazzuoli, questo è l'outfit base che andiamo a creare Ok? Quindi andiamo a creare questo outfit base per poi creare un nostro outfit bello che è personalizzato Iniziamo subito dalle scarpe, ce ne andiamo su scarpe, andiamo su scarpe Arena War E andiamo a prendere le scarpe bianche e luci blu, queste selezionate, perfetto A questo punto ragazzuoli ce ne andiamo sui pantaloni e andiamo a prendere ovviamente i pantaloni dedicati al 4 luglio Quindi andiamo su pantaloni Kino e andiamo a prendere Kino Stelle, quindi 52 su 70 Andiamo sulle parti superiori perché The Independence Day è veramente ricco Andiamo sulle magliette e andiamo a selezionare questa maglietta Ovviamente di magliette blu ce ne sono tante, quindi la potete personalizzare come volete Ma se volete farla come me utilizzate la maglietta 8 su 103 Perfetto, a questo punto ragazzuoli una volta selezionata questa facciamo una volta cerchio E andiamo su giubbotto protettivo pesca, quindi giubbotto da lavoro e andiamo sul giubbotto protettivo pesca Ok? 43 su 75 A questo punto ragazzuoli dobbiamo andare a mettere anche questi bei guanti bianchi Li andiamo quindi a selezionare dagli accessori Andiamo su guanti e andiamo a selezionare i guanti di cotone bianchi Ok? Perfetto Questa è la base, questo è l'outfit che poi creerà il nostro outfit glitchato Ce l'andiamo a salvare in cassa, mi raccomando, o sul primo slot o sull'ultimo Se no non vi esce nada de nada Ok? Quindi andiamo semplicemente a salvare sul primo slot, come nel mio caso A questo punto ragazzuoli una volta cerchio e dobbiamo andare su completi tute Perché dobbiamo andare a glitchare ovviamente il nostro outfit Per chi segue i miei video sa che cosa già sto facendo Quindi andiamo su completi tute e andiamo a selezionare da completi tute lo scienziato Ok? Una volta selezionato ragazzuoli non c'è bisogno di salvarlo Ce ne andiamo in un cannocchiale qualsiasi Ovviamente vi posso consigliare quello sulla spiaggia Quindi una volta arrivati in spiaggia con il nostro ovviamente outfit da scienziato Con il tutto da scienziato Mi raccomando la procedura perché è nuova Vi ho caricato anche il video sul canale Prendiamo la tannica di benzina Facciamo una scia verso il cannocchiale Proprio in questo modo come state vedendo nella clip Fino a sotto il cannocchiale Mi raccomando Arriviamo qui Dopodiché prendiamo una pistoletta Qualsiasi arma E andiamo a sparare sulla scia della benzina A questo punto Una volta che prende fuoco Ci possiamo girare Premere freccia destra Mi raccomando Dovete avere i contanti per il cannocchiale Andare verso il cannocchiale Questa volta Appena prendiamo fuoco Touchpad Aspetto E andiamo a selezionare l'outfit che abbiamo appena creato Cerchio, cerchio, cerchio Come vedete ovviamente ci glitcha la maschera da scienziato Questa ce l'andiamo a salvare verso il negozio di maschere Quindi questo è il nuovo metodo Lo trovate sul canale Andiamo semplicemente a sovrascrivere l'outfit con la maschera da scienziato A questo punto dobbiamo andare su lavoro da titano Quindi option online Attività Avvia attività Created Rockstar Un lavoro da titano Confermiamo le impostazioni Una volta arrivati al lavoro da titano Ragazzoli ci dobbiamo assicurare Di non avere il giubbotto protettivo Pesca Avere soltanto la maglia che abbiamo selezionato A questo punto ragazzoli Prendiamo un veicolo qualsiasi E andiamo verso un ammunition più vicino Io ad esempio vado verso questo ammunition Perché ovviamente è quello più vicino Andiamo all' ammunition E quello che dobbiamo fare ragazzoli Semplicemente dobbiamo salvare Quindi sovrascrivere Sullo stesso slot L'outfit che abbiamo nel lavoro da titano Senza giubbotto protettivo pesca Una volta fatto dobbiamo semplicemente Equitare l'attività Una volta equitata l'attività Ragazzuoli Fate attenzione perché è facilissimo Rientriamo nella munation A questo punto nella parte sinistra A freccia destra Andiamo su gilet Andiamo su gilet nero Quindi 38 su 40 La andiamo a selezionare Poi andiamo su camicia sotto gilet E andiamo a mettere la camicia sotto gilet Con banda bianca Ok? Quindi 30 10 su 30 E la andiamo a selezionare A questo punto ragazzuoli Dobbiamo andare semplicemente ad avviare Affare G Quindi option online Attività via attività preferite Andiamo su missioni Andiamo su Affare G Vi ricordo che Affare G lo trovate sui gruppi Telegram Fissatelo in primo commento con il comando Slash Affare G su Telegram Mi raccomando Slash Affare G tutto attaccato su Telegram E andiamo ad avviare Mi raccomando Quando avviate Affare G Dovete innanzitutto mettere completi salvati Invitare un vostro amico Se non c'avete un amico potete avviarlo in una pubblica E poi ovviamente dovete mettere su pronto a giocare Ok? Arrivati qua facciamo una volta a freccia destra Non c'è bisogno di avviare l'attività Una volta selezionato l'outfit Che abbiamo creato fino adesso Possiamo semplicemente fare cerchio e X Per uscire dall'attività Una volta arrivati invece in sessione Prendiamo un nostro veicolo Un veicolo cittadino Diventiamo CEO Facciamo CEO Avvio organizzazione A questo punto E facciamo di nuovo il touchpad Andiamo di nuovo su CEO Gestione Stile Una volta freccia destra Una volta freccia sinistra Cerchio, cerchio, cerchio Triangolo Usciamo e abbiamo l'outfit glicciato Come vedete abbiamo glicciato la camicia Con la nuova maglietta del 4 luglio A questo punto ragazzone una volta che abbiamo l'outfit praticamente quasi completato Ce ne andiamo al negozio di maschere Al negozio di maschere andiamo a prendere una maschera definita Che sta benissimo con questo outfit Quindi andiamo verso le maschere Mi raccomando perché ci sono pure i cappelli se volete personalizzarlo Quindi andiamo verso la maschera Mi raccomando oltre i cappelli ci sono anche i nuovi animali Ok? Che potete sbloccare con questo DLC Quindi la volpe, il falco, il toro, eccetera, eccetera Torniamo al nostro outfit Andiamo su criminali Ok? Andiamo a prendere questo bassa montagna Ok? Andiamo a selezionarlo Quindi maglietta patriottica La andiamo a selezionare Dopodiché ragazzuoli Dobbiamo ovviamente andare verso il cannocchiale Se non ce l'avete nei vostri accessori Andate ad acquistare anche i nuovi occhiali Che sono usciti per l'independence day del 4 luglio Solita cosa La tanica di benzina Ragazzi non vi ho fatto vedere tutto quanto Tutti gli accessori Perché se no usciva un video troppo lungo Se volete nel dettaglio tutti gli accessori del 4 luglio Scrivetelo nei commenti Allora ragazzuoli Cannocchiale Andiamo a sparare nella scia Ovviamente dalla benzina Appena c'è il fuoco Premiamo freccia destra per il cannocchiale Aspettiamo il fuoco A questo punto Una volta che arrivi il fuoco Ovviamente ci glitchiamo Andiamo sul touchpad Andiamo su aspetto Andiamo su accessori Andiamo a prendere gli occhiali E mettiamo anche gli occhiali nuovi Che potete trovare in un negozio qualsiasi Sulla mappa Andiamo a mettere quindi gli occhiali Del nuovo DLC del 4 luglio Ve li faccio vedere poi da vicino Cerchio, cerchio, cerchio A questo punto abbiamo glitchato la maschera Quindi il passamontagna Con gli occhiali E io lascerei l'outfit così Perché per quanto è bello E anche semplice A questo punto ragazzuoli Questo outfit Ce lo andiamo a salvare Al negozio di maschere Quindi andiamo verso il negozio di maschere E il nostro outfit È ovviamente più che finito Io nel frattempo voglio ringraziare Theo Gamer Per l'aiuto che mi ha dato nel video Ovviamente ragazzuoli Facciamo anche vedere La sua auto creata ovviamente da lui Ragazzuoli andiamo a salvare quindi Il nostro outfit E abbiamo finito di crearlo E lo lascerei veramente così ragazzuoli Perché è fantastico in questo modo Però vi voglio aggiungere le altre cose Che sono state messe nel DLC Fino a giovedì mi raccomando Del 4 luglio Quindi ci andiamo verso il parrucchiere Con Theo Gamer Ci facciamo accompagnare Vi faccio vedere che ci sono anche C'è anche una pittura facciale Che andiamo a indossare Che possiamo benissimo anche mettere Per il nostro outfit Quindi andiamo verso La pittura facciale Ho controllato Non ne ho trovate altre L'unica pittura facciale che ho trovato È questa qua Però comunque è sempre buona sbloccarla Sempre buona ovviamente tenerla E ripeto Acquistate gli accessori Del 4 luglio Perché poi ve li trovate per tutto l'anno E ovviamente ragazzuoli È una cosa in più Nel vostro account Come vedete ho girato Non ne ho trovato altri Se voi ne avete altre Altre pitture facciali Sul vostro account Fatemelo sapere Ma credo che quella sia L'unica Che ovviamente C'è per il 4 luglio Quindi per il DLC Del 4 luglio Ok Tutte le altre sono Ovviamente quelle di Halloween Che appunto Vi consiglio di acquistare Proprio come quelle di Halloween Anche quella del 4 luglio Ragazzuoli Questo outfit Credo che sia veramente Uno dei tanti Vabbè Ovviamente Belli Fatti per il 4 luglio Ne trovate altri Anche sul canale Ancora funzionanti Ragazzuoli È piaciuto questo video Lasciate un bel like Condividete Iscrivetevi al canale E noi ci vediamo Al prossimo video Bella ragazzuoli Un abbraccione Grazie